Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati nel 24esimo episodio con la nostra Master League, signori, con la rincorsa della Roma verso il secondo posto per cercare la promozione nella sede superiore. Detto questo, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti. Detto questo, signori, non so se l'abbiamo già raggiunti perché sto registrando in rapida successione rispetto al video che avete visto mercoledì, infatti non so se mi avete scritto niente sull'acquisto di T&R, lo leggerò prossimamente, signori, sotto nei successivi commenti. Detto questo, signori, non perderei tempo oggi perché non abbiamo soldi, quindi non possiamo fare nessun tipo di acquisto e andare avanti per procedere all'incontro di oggi, che se non ricordo male è contro il Dortmund, se non ricordo male. Quindi sarebbe una vittoria importante da portarci a casa. Ci riusciremo? No, non so, ci proviamo. Intanto andiamo a modificare la formazione. Vediamo se mi metto utente, esce qualcosa di interessante. Sì, oh che carino, già ce l'ha sistemata. Andiamo a cambiare i giocatori però. Allora, iniziamo da qua davanti. Allora, Henry deve essere centrale, Miranda deve stare a posto di Espimas, no, a posto di Ximenes. Ok, Espimas deve stare a posto di Castelo. Così. Ximenes esce per Babangida e Totti entra per Castelo e Cellini esce per Vorlander. Allora, venivano se ci sono tutti Vorlander e Miranda. Ok, Totti, perfetto. Henry centrale, Babangida e Espimas. Perfetto, signori. Sì, dovremmo giocare contro il Dortmund. Sì, sì, sì. Giochiamo contro il Dortmund, signori. Quindi, partita importante. Riuscissimo a levare tre punti al Dortmund oggi sarebbe molto importante. Perché sicuramente il Parma, secondo me, oggi la vince pure, signori. Nell'ultimo match contro il Dortmund abbiamo perso 1-0. Gol fortuito. Un pareggio ci andrebbe bene? No, 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 signori. Un pareggio non ci andrebbe bene. Un pareggio non ci andrebbe bene. Abbiamo bisogno dei tre punti che questi... Oh, mamma mia, ho detto Mo ci ha segnato. Allora, scusatemi. Stanno affatto tutto loro? Sono loro da soli in campo? Noi siamo anche noi in campo, signori? Siamo presenti a noi stessi? Ok, forse sì. Forse siamo presenti a noi stessi. Ok, attenzione a Stromer. No, no, no. Non siamo per niente presenti a noi stessi. Decisamente no. Decisamente no, porca miseria. Dai, cazzarola, che sfortuna che abbiamo. Vorlangen, 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 Vorlangen. Cercato il Bamba. Il Bamba che c'ha lo spazio. Il Bamba se ne va. Bamba, Bamba, il Bamba su quella fascia. Il Bamba, il Bamba, il Bamba entra in aria! Signori, calcio spettacolo. Il Dortmund ci ha provato a metterci paura. Ma la Roma non si ferma. La Roma non si ferma con Babagira. Rientrato in aria, ci ha provato e ha trovato l'angolino. Roma 1, Dortmund 0. Allora, signori, dobbiamo stringere i denti. Dobbiamo stringere i denti. Allora, dobbiamo stringere i denti perché... Allora, intanto, Miranda, 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 Miranda mio! Cazzarola, ci avevi a tutti lì, porca miseria, porca miseria. Ci avevi a tutti a due passi, ci avevi a tutti a due passi. E questo, mamma mia! Ho detto hanno pareggiato, ho detto hanno pareggiato. E invece siamo stati fortunati. Vogliamo evitare di bruciare questa fortuna che non so come ci sta baciando. Babagira, ancora lui. Il Dortmund non ha preso le misure al Bamba. Il Dortmund non ha preso le misure al Bamba. Il Bamba... E il Bamba li punisce! Mannaggia! Mannaggia, managgia, managgia! Uno bravo li avrebbe fatto il palonetto, signori. Uno bravo. Non... Non... Attenzione, Totti. Totti per Vorlangen. Vorlangen per Terrieri. Che si gira. Sfodere il destro. Il sinistro. Il sinistro si è girato su se stesso. Grandissimo Terrieri che si è girato su se stesso. Per poco non ho trovato l'angolino. Per poco, insomma. Una parata di metri. Però va bene. Però va bene. Dettagli. Attenzione, attenzione. Ancora Valery. Grandissimo in questo anticipo. Attenzione, Miranda. Miranda, Miranda, Miranda. Miranda mio. Già il secondo passaggio. Che sbagli. Non... 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 Non mi piace questa cosa. Miranda mio. Dai, Ducic per Totti. Totti, 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 Totti. Totti per via centrali. Totti, 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 Totti. Totti, Henry, 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 Henry. No, mannaggia. Perché non l'ho tirata subito? Perché non l'ho tirata subito? Mamma mia che azione che avevo trovato con Vorlangen. Con Totti. Totti per il Bamba. Il Bamba si apre sulla fascia. L'acquisto di Henry. Signori. Signori, Babangita trova il 2-0 doppietta personale del Bamba. Oh, signori, io lo sto a fare il gioco di squadra. Cioè, abbiamo fatto un'azione con Harry bellissima. Un'azione con Harry bellissima. Ma, cioè, Babangita non lo si tiene proprio. Cioè, io lo sto a fare il gioco di squadra. Non mi potete dire che sto giocando in maniera ripetitiva. Perché dico, Babangita, Babangita, Harry, 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 Harry. Ci prova da lontano. Se li acceleravo mi levavo nel pallone. Quindi dovevo decidere che fa. Va bene. 2-0, signori. Un 2-0 importantissimo. Un 2-0 importantissimo. Grandissimo questo recupero di palla. Totti, 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 Totti. Totti, bravissimo, Totti. Padrone del centrocampo, Totti. Franceschino, Totti. Mannaggia. Ho rallentato troppo il passaggio. Il camminare. Attenzione ancora, Espimas. Totti, 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 Totti. Totti che vorrebbe dare un'altra palla come quella di prima. Harry, ma niente da fare. Stavolta la palla, non passa. Miranda cerca un intervento inutile. Però ritorna sul pallone. Bravo Miranda che per ora ha sbagliato 2-3 passaggi importanti a centrocampo. Però si sta rifacendo. Totti, 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 Totti. Nella mischia. Totti per Harry. Harry per Babangida. Babangida, Babangida, Babangida. Babangida non tiene fisicamente. Al trentesimo minuto. Al trentesimo minuto. Dortmund 0. Roma. Ivanov. Ivanov mio. Gravissimo. Ivanov. Harry con calma. La mette giù per Totti. Totti, Totti che vedono avanti a Harry. Che... No, no, no. Mannaggia, avevo visto Spimas liberissimo. Aveva le praterie, signori. Aveva le praterie. Attenzione, attenzione. Buono così. La butti via, grazie. Sti giocherelli di palla nella nostra area anche no. E Spimas per Totti. Per Totti. Per Totti. Panarri. Mannaggia. Sbagliato il movimento. Doveva essere passaggio per Harry e... 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 Che mandava in profondità Spimas. Valeri. Valeri. Si fa bruciare da... Adu. 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 Che cerca... Cerca il... Cerca il limite. Attenzione. Pallone che torna a Totti. Gara combattuta. Comunque Totti che cerca il Bamba. Che vuole un break. Bamba. Il Bamba. Il Bamba. Il Bamba. Il Bamba. Si sta creando lo spazio. Il Babangida. 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 Babangida mio. No. Non guadagna nemmeno la messa laterale Babangida. Un poco troppo... Troppo sicuro di se stesso. Babangida in questa situazione. Grandissimo. Valeri ancora. Valeri. Valeri nazionale. Vorlangen. Vorlangen accelera. Vorlangen accelera. Vorlangen. Per Terri Henry. Per Terri Henry. Per Miranda. Per Totti. Per Spimas. Per Totti. Ah. Mannaggia. L'ultimo passaggio. Abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Ne rendo conto. Grande questo intervento. Intervento senza fallo. Pensavo mi scassi il fallo. L'albitro. E invece no. Grandissimo. Ancora Totti. 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 Per Spimas. Spimas. Attenzione. Attenzione. Grandissimo. Miranda. Miranda. Per Totti. Totti. Per Harry. 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 Accelera. Riapre per Babangida. 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 La vuole chiudere. La chiude. Con la seconda tripletta consecutiva. Babangida. La chiude. Prima del finire del primo tempo signori. Tripletta impressionante. La piazza ancora lì. Su quell'angolino. Dortmund 0. Roma 3. Partita da paura signori. Panico più totale. Vorrei un attimino. Io. Sì. Guardate. Oramai. Per mia cosa. Per mia cosa. Io voglio sempre cambiare Babangida. con Espimas. Ma signori. Cioè. Harry ci ha dato una tranquillità. Amsterdam 2. Arsenal 2. Ok. Firenze 1. Rio de Janeiro 0. West Ham sta vincendo 2. Parma 1. Attenzione. Attenzione. West Ham sta perdendo. West Ham sta vincendo. E il Parma perde. Signori. Questo è un risultato che a noi fa molto comodo. Attenzione. Babangida. Seconda tripletta. personale. Attenzione. Babangida. 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 No. Signori. 4 a 0. Terry. Harry. Trova anche lui il gol. Incredico. E' stato da Babangida. Si trasforma in Astizman. Harry. La stoppa di destro. E tira di sinistro. Trova l'angolino. Va a levare le reti. Dei ragni. Che ci sono nella porta del Dortmund. Signori. Perché il Dortmund non prendeva 4 polpette. In una sola partita. Forse è una sconfitta che è pesantissima. Secondo 4 a 0. Contro l'Arsenal è finita 5 a 1. Ricordo. Contro l'Arsenal è finita 5 a 1. Quindi c'è ancora tempo per fare anche il quinto. Grandissimo recupero di Henry. Henry. Che decide di partire lui. Henry. 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 Apre. Per espimas. 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 Sono in ritardo i difensori. Il cross. Il buono. Per. Casta. Serie di batti e ribatti. Valeri. Ci prova. Valeri. Recupera il gran pallone. Cioè da quando è arrivata lì signori si è svegliata tutta quanta la squadra. Allora io non so se sia veramente merito di Henry Henry. Ma si è svegliata tutta la squadra signori. Cioè giochiamo. Dà. Ma non era fallo mai nella vita. Ma cosa ti inventi. Ma cosa ti inventi. Un fallo proprio regalato. Calcio di punizione. Pallone al limite. È lì. È da solo Ivanov. La salva lui. La salva lui. Pallone salvato da Ivanov. Palla per Ducic. Ducic per Jorga. Jorga peserà lunga troppo. Mannaggia. Cercate il muoio grandissimo ancora Ducic. Che poi lancia subito il Babangita. Babangita parte 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 parte. Babba. Il Bamba parte. Si crea lo spazio. Babangita. Babangita. Babangita ancora al Sisman. Ahahah. Roma 5. Totmond 0 signori. Bambangita. Babangita. Assisman. Guardate per Terriarri. Che di prima la piazza all'angoletto. Io non so cosa sia successo signori. Non so cosa cazzo lo sia successo. Cioè Terriarri ha svegliato tutta la squadra. Incredibile. Incredibile. Non mi manca più nessuno signori. Cioè giochiamo che è uno spettacolo. Totti. 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 No. Totti mio. Totti mio. Che cazzo lo fai? Dovete semplicemente passarla a Henry. Che l'avrebbe servita benissimo. Ed è super. Ivanov. Grandissimo. Roma 5. Dortmund 0 signori. Con un'altra parte. Con quest'altra vittoria. Prendeci. Portiamo. Cioè. Roberto Carlos. Ce lo compriamo come niente. È grandissimo. Che sta parlando di Babangita. Che riesce a creare lo spazio. E il Bamba. Il Bamba. Il Bamba. Il Bamba. Ancora. Per Harry. Che sfiora la tripletta. Anche lui. Sfiorata la tripletta da parte di Henry. L'ha alzata leggerissimamente troppo. Ma ancora il pallone per Babangita. Il Bamba. Il Bamba. Il Bamba. Il Bamba. C'era. C'era. Il Bamba. Non lo tengono su quella fascia. Babangita. 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 Dal limite. La mette dietro. Annaggia. Harry aveva visto il movimento. Ma non c'è arrivato. Miranda. Miranda. Attenzione. Ancora. Ancora. Harry. Harry. No. Si era girato. Harry. Harry. Si era girato. Ma non è riuscito a inquadrare bene la situazione. Incredibile. Signori. Incredibile. Non c'è poco da aggiungere. C'è pochissimo da aggiungere. Incredibile. Incredibile. Attenzione. Babangita. 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 Per Harry. Calcio d'angolo. Al ventiquattresimo. Al ventiquattresimo. La batte Miranda. Miranda per Totti. 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 L'unico ancora fuori dagli schemi di questa Roma. E c'è il 6 a 0. Signori. 6 a 0 di Espimas. 6 a 0 di Espimas. Sur Borussia Dortmund. Io non so che altro aggiungere. Finalmente. Un rimballo a nostro favore. Espimas trova l'angolino giusto. Io non so che dire. Non so che dire. Spettacolo. Spettacolo in tutti i sensi. Spettacolo in tutti i sensi. Claire Sheet. Come si può dire. Quando non si prendono i gol. Vai Ivanov. Grandissimo Ivanov. Forse è la prima partita in cui Ivanov riuscirà ad essere imbattuto. Non mi ricordo. Dai. Dai. Passa la zio. Dai. E' proprio calcio spettacolo. Miranda. 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 Anna. Anna. Già. Eccesso. Eccesso di. Ivanov. Ivanov. Che cazzo l'avevo detto. Che cazzo l'avevo detto. Prima partita in cui Ivanov non prende gol. E Ivanov va preso col subito praticamente. Neanche il tempo di finire la frase che Ivanov già si è fatto bugare. Attenzione. Harry. 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 Anna. Già la stavo per tirare. La stavo per tirare in maniera potente. Comunque 6 a 1. Risultato in ghiaccio signori. Il Dortmund può un attimino ancora sperare di. Ha trovato anche il gol Espimas. Quindi questo è tutto dire. Ha trovato pure il gol Espimas. Che già sa che il suo posto si verrà preso da un certo Roberto Carlos. Annaggia sti 1-2 inutili così. Che cazzo di passaggi sono. Io però cortesemente vorrei portarmi i più punti possibili a casa signori. Stiamo a vincere 6 a 1. Non ci sto a farmi. Recupera tutti i gol. È giusto? Quindi signori. Ducic. Lento come pochi. Vede Babangita che si gira e parte. Praterie per Babangita al 37 signori. Praterie. Praterie che il buon Bamba percorre senza problemi. La palla arriva. Già di un soffio non è arrivata a Rì. Di un soffio non è arrivata a Rì. E questa è una visione troppo profonda verso Babangita. Attenzione. Attenzione al Dortmund che però non è domo. Il Dortmund non è domo signori. Perché non ci sta a perdere così. Ma intanto la Roma si ritrova nuovamente in attacco. La Roma, la Roma, la Roma, la Roma, la Roma. Signori. Cioè io non so cosa sia successo. Tripletta di Thierry a Rì. Signori. La sette a segno. Anche lui. Sette a uno della Roma sul Dortmund. Assist di Babangita. Mamma mia che gol di Thierry a Rì. Signori. Una goleata. Una gole. È finita proprio in goleata. Non mi sarei mai aspettato una partita del genere. E non gli ha segnati tutti i Babangita, signori. Gioco di squadra. Gioco di squadra. Rì, 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 Rì. Rì, annaggia. Aveva servito Espimas che ha cercato un dribbling ma non l'è riuscito. Vorlange per Totti. Totti per Rì. Rì per il Bamba. Il Bamba. Da posizione. Da casa sua. L'8 a 1 sarebbe stato devastante. L'8 a 1 sarebbe stato devastante. Ma ci abbiamo anche provato. Ancora Babangita riparte su quella fascia. Il Bamba. Il Bamba. Si crea lo spazio. Il Bamba. Il Bamba. Il Bamba. Il Bamba. Rimesso al fondo. Mi sa che l'arbitro sancirà alla fine della partita. Ed è così, signori. Dortmund battuto. 7 a 1. 7 a 1, signori. Signori, impressionante. Da scrivere negli annali. Vediamo i risultati della parte. Amsterdam. Londra 3 a 3. Buono. Guadagniamo due punti sull'Arsen. La Fiorentina batte il Rio de Janeiro. Quindi mantiene la stessa distanza sul Rio de Janeiro. E il West Ham batte 2 a 1 il Parma, signori. Seconda posizione conquistata per un repilogo in cui vede gol di Babangita, Babangita e Babangita su assist di Vorlander, Totti e Henry. Poi due gol di Henry su assist di Babangita. Gol di Espimas e gol di Henry su assist di Babangita, signori. Calcio spettacolo. Io non so che altro aggiungere. Non so cos'altro aggiungere. Se non dire calcio spettacolo, signori. Porca miseria. Abbiamo guadagnato 10 punti. Saliamo a 29. Riusciamo a fare un'altra partita con questa situazione? Cioè, Roberto Carlos è preso. Roberto Carlos è preso. Oppure potremmo prendere un giocatore da mettere davanti alla difesa molto alto. Magari o un difensore. Non lo so. Però intanto vediamo un attimino. Secondo posto conquistato, signori. E Dortmund ha 3 soli punti di distanza. Dortmund ha solamente 3 punti di distanza. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video. Vi ringrazio per il like, per i commenti precedenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video, signori. Bella raga. Ciao.